Un prodotto e 25 ristoranti ad esso collegati. Questo è il punto focale del progetto incentrato sul presidio del Broccolo di Torbole e organizzato dalla condotta Slow Food Vallagarina Alto Garda. Una terza edizione, quella appena trascorsa del 2016, che ha visto un crescente numero di ristoranti aderenti. Presidio Slow Food dal 2012 ed unico del campo ortofrutticolo sul territorio regionale, il Broccolo di Torbole cresce nell'ambiente circoscritto nei terreni del comune di Nagotorbole ed Arco, grazie al vento proveniente dal nord-est che crea un microclima ideale. Un lieve inalzamento della temperatura che è sufficiente ad evitare la formazione della brina, che è deleteria per l'infioriscenza dei broccoli. A coltivarlo due torbolani doc, come Aldo Rosà e Luca Rigatti, ai quali si sono affiancati due giovani contadini arcensi, Matteo Briosi e Ivan Ghezzi, che assieme a loro hanno fondato una nuova associazione che raggruppa i produttori del celebre broccolo torbolano. Il presidente è Giorgio Planckesteiner. Si conclude oggi il periodo di tre anni di valorizzazione del broccolo di Torbole, un progetto andato alla grande? Questo progetto l'abbiamo preso in mano tre anni fa, anche se il presidio è molto più vecchio, più antico. È un progetto per la valorizzazione di questo prodotto, che è il broccolo di Torbole, grazie anche all'aiuto dei contadini che si sono messi insieme e ci hanno dato l'opportunità di portare avanti questo presidio. Hanno portato da un numero di 20.000 piante che erano coltivate qui nella zona tra Torbole e Linfano, oggi abbiamo l'opportunità di avere invece 100.000 piante, grazie ai cinque contadini che hanno messo in piedi questo progetto. Il progetto di per sé è andato avanti anche grazie all'aiuto dei 25 ristoratori che quest'anno hanno partecipato al progetto e sono sia in Vallagarina che sull'Alto Garda. Un progetto importante per noi come condotta perché oltre a far conoscere il prodotto, quindi il presidio, ha fatto conoscere anche il territorio, ha fatto conoscere anche il food che è su questo territorio, soprattutto grazie alla ristorazione. Ecco, mi auguro che questo progetto prosegua naturalmente, noi abbiamo tutta l'intenzione di portare avanti questo progetto e sempre con la collaborazione di più contadini perché per noi quello che è importante è che la gente riesca a capire il valore del cibo buono, pulito e giusto che è la filosofia poi di slow food e riportarlo poi sulle tavole dei consumatori. Ed ora spazio all'olio del Garda? Certamente, è importante anche questo nuovo presidio che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere qualche settimana fa, è il presidio dell'olio del Masso Bottes, che è un olio antico che è stato ripreso grazie naturalmente ai responsabili di Masso Bottes e lo ritroviamo oggi come presidio slow food degli oli nazionali.